E' morta all'ospedale Piemonte di Messina, suora Alberta, la nagafe Carmela Giuzio di 82 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto quattro giorni fa a Messina in via Cesare Battisti. La vittima era stata travolta da un Opel Mocca condotta da un 55enne di Messina. Lo scrive la Gazzetta del Sud. La suora era stata trasportata in ambulanza al Piemonte dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata fino a ieri sera quando è deceduta.